Finalmente è arrivata la tracciabilità di tutti i prodotti caseari, passo in avanti fondamentale con grande risvolto per la produzione rietina. È una grande vincita per noi della Centrale del Latte di Rieti, ha dichiarato Marco Lorenzoni, presidente CLAR, per una questione di localismo, di freschezza e di qualità. Il decreto legge obbliga tutti i trasformatori a indicare da dove proviene la materia prima che utilizzano per confezionare il latte e tutti i prodotti caseari, obbligo già esistente da anni per il latte fresco ed esteso solo ora a tutti gli altri tipi di latte. Da adesso in poi il consumatore potrà conoscere la provenienza del prodotto che intende consumare. Il consumatore oggi può fare una scelta consapevole, ha sottolineato Lorenzoni, non può più essere legalmente raggirato come avveniva prima. Questo raggiro è finito, la provenienza del prodotto deve essere esplicitamente indicata in etichetta.